Ciao, sono Martina Varotto e ho fatto i corsi di primo e secondo livello barman e mi sono trovata subito benissimo sia con i docenti che con il personale della scuola e in più ho trovato subito lavoro. Successivamente ho frequentato un corso di player e vengo tuttora qui ad allenarmi e consiglio a tutti questa scuola per l'alto potenziale formativo.